Research is what drives innovation. When it comes to research, CreateNet is where innovation begins. Il futuro nasce dall'innovazione, un'innovazione orientata al miglioramento della società, al miglioramento delle nostre interazioni in mobilità, al miglioramento del nostro ambiente, allo sviluppo sostenibile, al miglioramento del benessere delle persone, innalzando il livello complessivo della qualità di vita attraverso la creazione di un territorio intelligente. La strada verso l'innovazione inizia dalla convergenza tra ricerca e sperimentazione, che emerge dal lavoro appassionato di ricercatori di fama internazionale, svolto in un ambiente ricco di ispirazione e in grado di trasformare le idee di ricerca in risultati tangibili. La strada verso l'innovazione è la stricata di partnership e di collaborazioni. Ciò che ci rende unici è la nostra capacità di facilitare l'innovazione attraverso la promozione di alleanze in Europa e nel mondo. L'innovazione sta già trasformando la società. CreateNet è un centro di ricerca internazionale che unisce la ricerca nel campo delle tecnologie, dell'informazione e comunicazione con l'innovazione a sostegno della società. Il fattore preenante di CreateNet è l'innovazione. Innovazione significa fare rete, lavorare assieme e sviluppare idee per trasformarle in realtà. Si può essere visionari, ma si deve avere un impatto sulla società. CreateNet promuove l'European Alliance for Innovation, una piattaforma globale che coinvolge la partecipazione attiva delle organizzazioni associate e potenzia le loro comunità. Attraverso un approccio che parte dal basso, l'EAI è in grado di supportare concretamente il trasferimento tecnologico, di creare un spirito imprenditoriale in ambito educativo e di rendere le imprese europee maggiormente competitive. La ricerca è la cosa che guida l'innovazione. E quando si tratta di ricerca, CreateNet è dove l'innovazione comincia. La ricerca è la cosa che guida l'innovazione. La ricerca è la cosa che guida l'innovazione.